Importante riconoscimento della Regione Piemonte all'Associazione Settimane Musicali di Stresa e al direttore artistico del Festival. I presidenti del Consiglio regionale della Giunta, Valerio Cattano e Roberto Cota, erano presenti al concerto del 28 agosto, diretto dal maestro Gian Andrea Noseda, nell'ambito della 52esima edizione della manifestazione. Nella serata le massime autorità regionali hanno consegnato due riconoscimenti, rispettivamente al presidente dell'Associazione Settimane Musicali, Giovanni Medeot, per il suo sostegno alla cultura musicale e al direttore artistico del Festival, il maestro Noseda, per il suo costante impegno artistico. E' seguito il concerto della Stresa Festival Orchestra, che celebra il decimo anniversario della sua fondazione e ha proposto composizioni di Bach, Schubert e Mozart. Un ringraziamento al maestro Noseda e al presidente Medeot, ma soprattutto anche un ringraziamento non per piangeria, ma veramente sentito da parte della nostra comunità, al presidente della Regione, Roberto Cota, perché in un momento di crisi economica difficile ha saputo fare la propria parte con un sostegno concreto e non solo economico da parte della Regione alla 52esima edizione. E' un evento molto importante per il nostro territorio, ha una lunga tradizione che ogni anno però riprende una nuova vita. Aggiungo che il livello della manifestazione di quest'anno è veramente molto alto. Io penso che sia molto importante poter organizzare degli eventi, perché gli eventi danno poi anche continuità ad una presenza turistica.